Oltre 100 kg di carta e due computer, tutto il materiale prelevato da carabinieri e guardie di finanza negli uffici di provincia, comune di Padova, quinto reparto infrastrutture dell'esercito italiano e ATAR di Venezia e Padova. Intanto gli enti coi volti stanno cercando a loro volta di effettuare verifiche interne sulla gestione delle gare d'appalto. La trasparenza è una condizione essenziale, in questo senso abbiamo fatto un check up con tutti gli uffici che si occupano di appalti per vedere se avevamo delle falle. Il comune di Padova, qualora ci fosse il processo a calico della dipendente Simone Talliviero, potrebbe costituirsi parte civile. La signora che oggi è colpita dal provvedimento dell'autorità giudiziaria stessa potrebbe aver, violando la legge, consapevole di violarla perché c'è un aspetto del codice penale che abbia vieta tassativamente di informare le ditte e quali sono le altre ditte che partecipano a una gara. Turbativa d'assa dunque l'accusa che coinvolge anche Nazario, Borina e Massimiliano Berto, dipendenti della provincia, responsabili del reparto manutenzione, ufficio gare e contratti. Stiamo cercando di capire i meccanismi anche perché nella stragrande maggioranza dei casi è stata effettuata una gara, quindi invitate più ditte e poi si è scelta quella che ha fatto il prezzo migliore. Anello di congiunzione tra gli tre imprenditori edili arrestati e i funzionali di comune e provincia ci sarebbe stato invece Luciano Aldo Marcon, ora ai domiciliari e fino al 2008 direttore dell'Ater di Padova. Mi dispiace che l'immagine dell'ente Ater ne venga fuori così massacrata, soprattutto per colpa di un ex direttore.